prevenire è sempre meglio che curare quindi bisogna igienizzare il proprio cane tutti i giorni non si perde poi tanto tempo avendo i prodotti giusti adeguati un minuto un minuto e mezzo al giorno riusciamo a pulire bene tutto il contorno degli occhi e le pieghe di giotto un bellissimo bulldog inglese di dieci anni che come tutti i bulldog ha la problematica delle pieghe laddove laddove la la cute non respira quindi è secca asciutta e il ph sicuramente non è quello normale perché è lagrima perché la e poi laddove c'è la lacrimazione si altera il ph della cute mettiamo un liquido attorno all'occhio perché usando il prodotto giusto mettiamo questo liquido attorno all'occhio ma anche se va nell'occhio non c'è alcun problema perché è un prodotto decongestionante idratante igienizzante perché è a mamelis e camomilla insieme che sono igienizzanti ed idratanti allora proviamo a mettere questo liquido che in queste pieghe poi quando il cane sente questo prodotto addirittura a piacere prova beneficio quando arriva questo prodotto specialmente le pieghe perché le idrata le decongestiona le pulisce lui si sente poi anche più pulito e poi non ha il prurito tra le pieghe perché quando si secca la cute all'interno delle pieghe da prurito al cane è un bulldog ha difficoltà a grattarsi vedete che ogni tanto avete mai visto dei bulldog che cercano di strofinare la testa per terra cioè cercano di grattarsi perché non riescono ad arrivare con le zampe perché proprio perché fisicamente non ce la fanno non sono così agili un minuto un minuto e mezzo di igiene come sta facendo Monique ha messo il liquido qui tra le pieghe e sta passando con una garzetta ecco qua abbiamo tolto tutte le impurità e dopo dottore come loro sono pello corto perdono continuamente il pello ho tolto anche il pello che era cascato perché come si muove poco l'ho liberato ed il pello che rimane nelle pieghe crea anche il suo prurito esatto quindi è importante l'igienizzazione occhio pulito lozione Yves Saint Bernard per la corretta cura e igiene degli occhi dei vostri pet vi aspettiamo alla prossima puntata di il veterinario racconta per mostrarvi il beneficio dei prodotti Yves Saint Bernard il loro giusto utilizzo nella nuova puntata vi illustreremo Papi Don't Cry shampoo sapone Yves Saint Bernard per detergere anche le zone più delicate continuate a seguirci sulla nostra pagina